Oggi sono qui con la dottoressa Simona Casadei, medico oncologo esperta in nutrizione umana. Ha lavorato in diversi istituti oncologici, fra cui Parigi e Milano. Grazie mille! Grazie a te e salve a tutti! Allora, la prima domanda che mi viene spontanea. Come mai ti sei avvicinata alla nutrizione in campo oncologico? Allora, il mio percorso nella nutrizione è iniziato su di me, nel senso che per vari percorsi di salute mi sono ritrovata ad avere un piccolo problema oncologico e a fare una terapia, una chemioterapia. E ho notato che mangiando normalmente, secondo la tradizione che avevo poi acquisito dalla mia famiglia, quindi la carne, la pasta, qualche dolce, frutta, verdura, senza delle regoline un pochino più specifiche non riuscivo a stare bene neanche con gli antiemetici. E proprio tolleravo male la terapia, mi sentivo male. Ho cominciato a studiare un pochino il lavoro dei nutrizionisti dell'Istituto Europeo di Oncologia, del professor Berrino. Ho letto qualcosa di Campbell negli Stati Uniti e ho scoperto il mondo della macronutrizione che deriva dalla macrobiotica. E ho cominciato a ridurre le carni rosse, le carni lavorate, gli zuccheri semplici e tutto ciò che mi dava molta acidità di stomaco e che mi creava dei grossi sbalzi glicemici. E ho iniziato ad utilizzare cereali integrali e legumi e da lì ho notato i primi miglioramenti, piano a piano che mi approfondivo la conoscenza e anche il modo di cucinare questi alimenti che hanno bisogno di un minimo di cura e di cottura, sono stata meglio, ho tollerato bene e alla fine il problema che era mediamente grave adesso è sotto controllo e direi che posso considerarmi guarita, quindi la chemioterapia ha fatto ma sicuramente ha fatto anche la nutrizione, ne sono convinta al 99,9%. Bene, bene. Tra l'altro la tua penso sia una meravigliosa testimonianza perché ci sono pochi medici che hanno vissuto anche la tragica esperienza effettivamente della malattia. Sì, ed è un'esperienza traumatizzante perché fino alla settimana prima della diagnosi io lavoravo in un reparto di oncologia e mi era capitato addirittura di avere purtroppo, come capita spesso in questi reparti, dei decessi e con tanta tristezza perché tendo molto ad affizionarmi ai miei pazienti, anche adesso ma anche allora ero sempre uguale e quindi mi ero un po' sentita frustrata nel mio lavoro perché ci sono, è vero, tante conoscenze nuove, ci sono nuove cure, anche cure in ambito immunitario, gli anticorpi monoclonali, sempre più studiati, però tanti tipi di tumori ancora oggi facciamo fatica a debellarli, a tenerli sotto controllo o diciamo così, tra virgolette, a cronicizzarli perché sono molto aggressivi o perché non ci sono sufficienti cure o perché il paziente non riesce a tollerare il trattamento a dosaggio pieno o si debilita. Quindi quando mi sono trovata io stessa nella condizione di dover fare una terapia ricordo che in un primo momento ero diventata molto debole, ricordo mia sorella in un giorno tornando da Milano perché le feci a Milano queste terapie, tornando da Milano mi disse Simona se sei 40 kg faccio una scommessa sei verde e così mi sono un po' fatto un esame di coscienza ho detto qui o cambio oppure soccombo alla terapia e mi sono rialzata in un qualche modo, ho preso in mano un libro e ho cominciato a leggere, a leggere, a cucinare e ho visto che veramente mi è cambiata la tollerabilità alla chemioterapia, cioè io non vomitavo più, io non avevo più quei sintomi di amaro in bocca, mal di testa, dolori addominali e dolori anche articolari che sono tipici di chi fa una terapia e la spossatezza, ho scoperto che poi in alcuni centri oncologici il giorno della chemioterapia viene somministrato proprio un menu che mima una sorta di diciamo tra virgolette digiuno ma perché non è non tanto perché non vengono somministrati gli alimenti ma perché vengono somministrati già digeriti tipo delle creme di riso integrale, delle creme di legumi, le verdure già frullate perché questo permette al sistema digestivo di mettersi a riposo, l'organismo è nutrito e la persona non ha i sintomi questo ti permette di stare anche a dosaggi molto alti, inoltre i sali minerali, le vitamine, della verdura e dei cereali integrali però frullati ti permettono di avere anche meno sintomi tipo le parestesie dovute ai platinoidi o proprio i sintomi gastroenterici, la diarrea e il vomito che sono la mucosite che sono gli effetti collaterali più devastanti per la persona. Certo, quindi direi che mi hai già risposto alla prossima domanda però se vogliamo eventualmente tirare le fila, quali sono i tre elementi o i pochi alimenti, insomma alimenti scusami che possiamo consigliare per tollerare appunto la terapia, quindi in questo caso proprio la chemioterapia? Sì, io consiglierei di farsi il giorno della chemioterapia o i giorni della chemioterapia delle creme di cereali integrali tipo la crema di riso integrale è favolosa perché ci dà tutto, carboidrati, proteine perché la germe del riso integrale è intera, quindi contiene la parte proteica con dell'olio a crudo e può essere consumato sia a pranzo che a cena e quel giorno lì che normalmente si ha inappetenti va bene così con qualche tisana di melissa, di malva che calma un po' l'irritazione, l'infiammazione della parte digestiva nei giorni attorno alle terapie di cercare di ridurre il più possibile le carni lavorate, gli oli cotti le cose troppo sbrucciacchiate e di mangiare più che verdure crude mangerei verdure cotte magari non so, farsi delle insalate di orzo perlato, di legumi, di spinaci oppure dei brodi vegetali fatti con verdure fresche, con una pastina tipo dei filini di farro che ha anche come farina pochissimo glutine quindi è meno irritante sempre con dei legumi, quindi avere tutto l'universo della nutrizione ma in modo molto digeribile e di ridurre tutto ciò che è troppo dolce biscotti con molti zuccheri, dolci al cucchiaio, troppe patate troppi alimenti che in un qualche modo eccitano, aumentano il calore interno e quindi possono poi scatenare i sintomi noi dobbiamo un po' sfiammare in generale invece un consiglio per chi sta facendo la terapia ormonale quindi chi è ovviamente purtroppo in meno pausa indotta e quindi deve far fronte sia alla vampata di calore famosa vampata di calore che io mi ricordo mi sono trovata in situazioni pessime a fare veramente delle figure devastanti e come tenersi in linea ok, allora io consiglio per i momenti di vampata di tenersi delle compressine di zenzero vitamina C che ci sono in varie erboristerie che rinfrescano molto già la cavità orale e riducono un pochino il calore interno e farsi delle tisane a base di curcuma anche con la radice è molto efficace e volendo si potrebbe pensare di fare dei pasti nei giorni soprattutto più caldi con delle insalate di cereali tipo faro integrale con del pesce e dei legumi senza mangiare degli alimenti troppo caldi noi dobbiamo ridurre la temperatura interna una cosa che può essere utile quando si ha molto appetito e capita quando si è in meno pausa indotta che ci siano questi momenti un po' anche per l'ansia un po' per la paura un po' per la situazione in cui ci si trova che ci siano dei momenti di fame un po' morbosa di frullarsi della frutta metterla nelle formine dei ghiacciolini e metterla nel congelatore poi al momento del fame di dolci mangiarsi un ghiacciolino che ci rinfresca ci dà tutti i sali minerali le vitamine della frutta e dopo per ridurre l'indice glicemico della frutta mangiare qualche noce perché i grassi buoni vegetali della noce riducono l'assorbimento intragastrico del fruttoso quindi l'indice glicemico della frutta rimane basso e non aumentiamo di peso bello, bello molto bello effettivamente per l'estate è favoloso chiuderei tre consigli di qualità di vita come migliorare la qualità di vita di una persona in ogni caso che ha avuto la malattia allora primo non essere arrabbiati noi non ci dobbiamo arrabbiare con noi stessi quello che chiamiamo tumore in realtà è qualcosa che nasce da noi è dentro di noi fa parte di noi lo dobbiamo un po' accettare c'è chi ha la fortuna di poter fare una chirurgia quindi poter togliere questa parte di noi che si è ammalata c'è chi invece non riesce a poter essere trattato con la chirurgia quindi deve in un qualche modo convivere quindi è inutile arrabbiarsi contro una parte di sé noi dobbiamo accettare tutto di noi quello che viene quindi non essere arrabbiati la prima cosa è l'accettazione un po' come un perdonare se stessi anche se ci si è ammalati può succedere di ammalarsi di questo come di altre malattie la malattia qualche volta ci permette di avere una seconda chance di cambiare vita cioè di per esempio cambiare la nutrizione per esempio iniziare a fare un po' di movimento cambiare il lavoro uno stile di vita più sano prendersi del tempo per sé di riuscire a ritagliarsi dei momenti per fare le cose che ci piace fare che ci scatenano dentro il piacere certo e oltretutto credo che tutte le cose che noi facciamo nella nostra giornata debbano essere infarcite da amore se noi mettiamo amore verso gli altri verso le cose che facciamo anche solo quando cuciniamo due uova al tegamino certo però quelle uova prenderanno un'energia che ci farà bene che ci rinforzerà quindi tutte le volte che cadiamo o che facciamo uno scivolone o che ci ammalliamo non importa tanto la caduta o la malattia importa poi come dopo riorganizziamo la nostra realtà e quindi è lì che la vera scommessa della vita di una persona che si ammala è in come affronta il dopo certo certo dopo questo bellissimo messaggio ringrazio Simona grazie a te e spero che vi sia stato utile ma penso proprio di sì grazie a tutti grazie arrivederci a tutti ciao grazie grazie a te grazie a te